Ciao a tutti, mi chiamo Giulio Maria Grisotto, ho 24 anni, vengo da Varese, frequento l'Università Milano. Per me scrivere è condividere, dividere con. Per me scrivere significa condividere il proprio vissuto, il proprio mondo interiore, i propri pensieri e l'io più profondo che molto spesso non è facile portare alla luce. Scrivere significa coinvolgere gli altri e renderli partecipi della nostra vita. Un grosso in bocca al lupo a tutti.